Quindi intrecciata a mano, intersecata a mano, saldata a mano, ogni pezzo sarà un pezzo unico. L'abbiamo realizzato perché il nodo è un soggetto che rappresenta tante cose importanti nella nostra vita e soprattutto perché è un soggetto particolarmente raffinato, particolarmente sofisticato e particolarmente originale. Non parliamo del solito soggetto a forma di cuore, del solito soggetto lineare, che sono sempre molto eleganti nella giudalleria noro, ma qui parliamo di un soggetto che rappresenta veramente qualcosa di sofisticato, qualcosa di intrecciato, un abbraccio, un legame affettivo e anche una continuità, un'eternità della vita, dei legami, dell'affetto, dell'amore, qualcosa che rappresenta noi stessi. Io indosso questo anello dal momento in cui è uscito il primo pezzo dai nostri laboratori orafi, laboratori assolutamente italiani, con orafi tutti italiani, una manifattura, una mano d'opera veramente di eccellenza. E tutti...